non te la consuma ragione qua tu mettete lì e voi preparatevi che fra un quattro l'ora c'è lezione c'ha due occhi due mani due gambe e due palle forse cambia letto lì non può perché perché avete sentito a che x oppure perché perché sì perché neanche l'epo e l'epo e l'epo come ti chiami claudia non te la fai la barba claudia claudia dove hai messo la pelliccia di pelle di topo non la trovo più tu sei un pezzin miei davvero si attenta a rispondere bene tu sei un pezzin miei tono ci sei un pezzin miei da allora è questo tuo quello vicino ai cessi la merda sta là gli sconsi come te ci devono fare compagnia vai in pace vai te lì sono ma non è che il bossolo non chiare goal cosa cosa si sta mettendo al chiamocle va ben ditto è che sono dolce